buonasera buonasera a tutti benvenuti in questo nuovo video l'invito è ancora una volta a iscrivervi al canale e a mettere like al video in attesa della nuova stagione e del concorso che partirà su questo canale con la nuova stagione cerchiamo di arrivare almeno a 300 iscritti da qui alla fine della stagione sono un po dispiaciuto un po parecchio dispiaciuto perché purtroppo sono appena finite le due partite o meglio una è finita circa una mezz'oretta fa l'altra è finita pochi istanti fa e l'amaro in bocca per scusate se la prima se la prima parte del video la dedico a sonego ma onestamente l'amaro in bocca per una partita persa da sonego è tanto è veramente tanto perché insomma lollo aveva giocato una grandissima partita era andata avanti di un break nel primo set ha giocato sul break di vantaggio giocato il peggior turno di servizio della partita rimettendo in corsa nel set rude che poi a gli ha tolto il set partita sembrava destinata a facile chiusura ma invece sono è un lottatore incredibile e nel secondo set ha trovato la forza di portare intanto di non concedere palle break no di concederne una e annullarla sul sullo nell'ottavo gioco del 4 pari e poi è riuscito a breccare a breccare rude portandolo al terzo nel terzo set nel terzo set alla fine gli ultimi due game di di sonego dal quad niente quattro pari e poi che ha chiuso la partita sono stati un po traballanti servizi perfetti fino al tre pari poi su quattro pari sono annullato due palle break era riuscito a portarsi avanti di un 15 15 30 sul sul quattro pari servizio rude e poi nell'ultimo game rude ha trovato un passante in corsa incredibile un lungo linea di dritto che ha fulminato sono e quali ha consegnato due palle break sono riuscito a annullare la prima non purtroppo ad annullare la seconda e insomma non avremo il derby il derby italiano in nei quarti di finale di vienna dico e derby perché nell'altra partita che si è giocata più o meno in contemporanea che è durata un po meno molto meno e sinner ha devastato novak 64 62 novak che è stato in corsa tre game i primi sei game del primo set poi è stato letteralmente piallato da un sinner che è in forma veramente eccezionale va io di questa partita l'ho vista sprazzi ho visto i primi game del primo set quando sinner quando non per di merito di sinner ma per tanto merito di novak la partita è rimasta equilibrata poi fatto il break nel primo set se non ero sul tre pari sì sul tre pari break a 15 con con sinner che va a 0 40 la partita si è incanalata nella direzione di sinner che poi è andato addirittura 4 a 0 nel 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 secondo set e non c'è che non c'è stata partita e a quel punto sul 4 a 0 del secondo non vi nascondo che ho cambiato canale e mi sono messo a guardare quell'epica quella quella l'epica partita di sonaco che pur avendo perso ha giocato veramente un grandissimo match e insomma meritava perlomeno di potersela giocare al tie break ecco poi al tie break avrebbe potuto perdere ma però ecco la prima pagina di oggi dovrebbe essere almeno per me è dedicata a sonego perché aveva un avversario di livello superiore e come in tutte le partite di sonego l'avversario di livello superiore per batterlo ha dovuto letteralmente sputare sangue in campo perché insomma rude se l'è vista se l'è vista davvero brutta se l'è vista più brutta di quanto abbia detto il punteggio perché in alcuni momenti sembrava che sonego potesse arrivare a quella fatidica palla break che gli avrebbe potuto permettere di andare avanti un break nel terzo set e magari anche di vincere la partita per quanto riguarda la partita di sinner ripeto poco da dire la partita è durata sei game fatto il break del primo set l'austriaco è tornato nei suoi ranghi sinner ha continuato a giocare come gioca da 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 un mese a questa parte non c'è non c'è stata partita non non tra la fine del del secondo tra la fine del primo e l'inizio del secondo è stato un devastante parziale di di seghema di seghema di seghema zero che ha tolto ogni ogni speranza al buon novak e quindi avremo un sinner rude per la semifinale la buona notizia è che agli asim dà una grossa mano a sinner battendogli norri norri che è stato veramente a un passo da vincere aveva vinto il primo set si è ritrovato 63 nel tie break con due mini break nel tie break del secondo set lì aliasim si è giocato il tutto per tutto ha giocato due punti risposta praticamente perfetti è riuscito a girare il set e poi anche a girare il match il terzo set si vedeva proprio che l'inglese era come dire dilaniato dai rimpianti di non aver chiuso insomma due match point a favore con tre match point a favore di cui due col servizio nel tie break con tanta roba e la partita è girata lì è girata in quei in quei tre match point in quei due perché poi nel terzo in realtà le chance di di no di non li sono state veramente poche e quindi gran piacere fatto da aliasim a sinner per quanto riguarda le finals piacere che non riesce a sonaco ma ripeto nulla da dire anzi chapeau alla partita di di lorenzo che ha giocato un match in una superficie a lui non troppo congeniale contro un avversario più forte ha giocato a tratti anche meglio di 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 rude e quindi gran partita ecco la partita della settimana probabilmente è questa e di questo torneo per quanto riguarda le altre le altre partite di fatto ce n'è un'altra sola finita di cui dobbiamo dare il risultato e schwarzman che ha battuto mon fils in 3 7 7 6 4 6 6 2 ripeto di questa partita non posso dirvi non posso dirvi granché perché oggettivamente stavo guardando la partita degli italiani prima di prima di sonaco in contemporanea questa partita c'era sonaco e quindi quando quando giocavano questi due quando giocavano mon fils e schwarzman stavo guardando il primo set di sonaco che ripeto ha avuto un'occasione incredibile perché sul 43 ha servito per andare 5 3 e ha giocato il peggior game della partita purtroppo quel game che non lo ha portato 5 3 ha poi fatto la differenza perché quel set non vinto poi è stata è stata diciamo la causa tra virgolette della sconfitta nel senso che che ruta ha potuto permettersi di perdere il secondo set per poi vincere in volata e comunque soffrendo il il terzo quindi da tabellone quando mancano ancora alle partite di zerev e di zizi pass da tabellone abbiamo rude sinner e alcaraz berrettini per quanto riguarda i nostri nei quarti di finale diciamolo subito due partite nelle quali berrettini parte secondo me favorito con alcaraz però deve giocare meglio di come ha giocato il primo set contro basil asvili sinner contro lui contro questo rude insomma sinner parte alla pari non voglio dire che parta favorito sfavorito secondo me la la partita alla pari poi la può vincere lui dalla può vincere sinner però ecco la partita si prospetta una gran bella partita e ripeto lud ha veramente visto le streghe oggi per per battere per battere sonaco quindi speriamo che si riesca a fare quello che sono riuscito a fare speriamo di avere due giocatori in semifinale e chiaramente li seguiremo domani all'open di vienna io vi rimando al video di domani per le due partite degli italiani nel frattempo vi auguro una buona serata vi invito ancora a iscrivervi al canale e a mettere like al video ci vediamo domani per commentare le due partite degli italiani a la notizia del giorno è che le atp finance almeno le partite degli italiani o comunque la miglior partita della giornata le potremo vedere anche in diretta sulla rai il singolare va in diretta sulla rai il doppio va in diretta su super tennis quindi chi non ha sky riuscirà a vedere almeno una partita di singolare al giorno preferibilmente per quanto riguarda gli italiani speriamo che nei primi sei giorni siano che sinner e berrettini finiscano magari in due gironi diversi e poter vedere siner berrettini berrettini siner berrettini berrettini siner per sei volte quindi detto questo io vi ringrazio ancora vi invito a iscrivervi al canale ea mettere like al video è ancora ovviamente valido noi ci vediamo domani per i quarti di finale da vienna non farò il video sulle partite di city pass e di zero sappiamo già che ci sono due italiani conosciamo i loro avversari noi ci vediamo domani per commentare appunto le due partite grazie a tutti e buona serata